E siamo sempre con Matera Social, questa volta a fine pranzo sempre qui alla Marconi, siamo nel cortile interno e quindi vedete alle mie spalle il coro dei commensali che sono qui al taglio della torta insieme alle due bande, quella di Oppido Lucano, mentre questo ragazzino passa, vieni qua, di Oppido Lucano è della Finlandia e tra il coro alle mie spalle, i ragazzini che passano, abbiamo qui il nostro sassofonista Juha che rappresenta in questo momento la banda della Finlandia. What do you think about Matera, capital of the culture today? It has been a very nice opportunity for us to take part in your event here and I think that as far as I have seen Matera, it's a very nice town and have a lot of history historical background which is interesting for us to see and experience and join all the other bands here playing together as part of EU, cultural capital. Ok, thank you very much, Yahoo! And continuiamo a guardare invece quello che fanno i nostri amici che dopo aver pranzato sono stati accolti in questo cortile della scuola grazie a coloro che hanno preparato i dolci a casa, il caffè e hanno poi portato tutto qui per essere carini, gentili e accoglienti con chi è arrivato a Matera stamattina, in particolare con la banda di Oppido e la banda della Finlandia, le due bande che hanno pranzato insieme a noi. vi lascio adesso guardare brevemente, mentre... dolci, dolci, dolci... scusa Ima ma questa è induzione aiutate, 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 il quartiere deve aiutare allora vado di là